Secondo quanto riportato da footballtransfers.com il Pescara nella prossima settimana farà sostenere un provino al centrocampista offensivo svedese Silvimulumba Kayembe Ilolo, classe 2001, in forza al Norritalge. Il giocatore verrà valutato dallo staff tecnico del club che poi deciderà, se tesserarlo o meno. In passato Kayembe è stato cercato anche dall'Atalanta, che poi decise di non metterlo sotto contratto.